Ragazzi qui Dado nuovo video Metaslag Defense, come fare MSP? Porca miseria, domanda frequente tra tutti Vi dico che a inizio serata, cioè meno di un'ora fa ero a 9000 MSP E ora quanti ne ho? 2.500.000 Ma come? Facendo questo utilissimo boss raro, guardate 100 medaglie di arena E andiamo a vedere, vincendo questo livello molto in fretta tra l'altro Allora, abbiamo solo 10 minuti rimanenti di boss raro Perché è iniziato alle 10.09 Il boss raro durerà per un'ora E andrà sempre di più a consumarvi punti sortite Perché aumenterà di livello E aumentando di livello aumenterà il quanto richiede per sfidarlo E le ricompense alla fine, logicamente di livello Perché cosa sfidi? Un nemico fortissimo per niente Cioè, infatti ora andremo noi a sfidarlo, a batterlo in fretta Avete visto, diciamo, ha messo pochissimo con la velocità per 2 Andiamo a vedere cosa ci dà Più 45 di esperienza, più 120.000 MSP Più 15.000 di bonus Più 100 di medaglie di bronzo Anche quelle non guastano mai, devo dire Allora, praticamente sono partito stasera con 1600 punti sortite Come li ho fatti? Li ho accumulati circa 4 giorni di gioco senza consumarli Cioè, facevo vedere li, li guadagnavo e li consumavo Infatti ne avevo 999 più Scusa, però vi faccio vedere lo screenshot Andiamo a fare il livello di fretta Perché abbiamo solo 9 minuti ancora E devo consumare almeno tutti i punti sortite che ho guadagnato Se no, mi riterrò un po' uno spreconi di punti Dato che ora posso fare 120.000 a livello Che è davvero una marea Guarda, sono davvero entusiasta E ustasiato, come dice la pubblicità che ormai va tanto di moda Di iChange.eu Ho guadagnato da 9.000 MSP a 2 milioni In una sola ora Cioè, è tantissimo Soprattutto per chi magari è appena salito di livello E deve farsi tutte le truppe di livello superiore Che magari costano anche tanto Come magari un brain bot Per me può costare Un circa 100.000 a livello Cazzo è tanto Però, grazie a questo trucco I soldi non saranno più un problema Potrete fare anche i crank Quante volte vorrete Cioè Io Ieri avevo un milione No, ieri Tre giorni fa avevo un milione Li ho spesi tutti in crank Senza problema Ora ne ho già 3 milioni Ma li ho fatti davvero Non è che li accumulo da un sacco Li ho fatti in una serata Perché come vedete Da 120.000 a botto Cioè È una cosa Fuori dalla norma Cioè, non so se è un bug Che andranno a fixare Se è una cosa Davvero Così Perché comunque è il metodo più veloce Sicuramente per fare MSP Allora È già 3 minuti di video Che stiamo facendo Quindi Ci sta rimanendo Davvero poco tempo Parliamo con lo scudo qua Questo scudo è invincibile Marca vacca Lui Ok Vai 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 Sciso Sì sì Guardate È solo due brandley E uno scudo Lo batti A volte il brandley Cioè Nei livelli Precedenti Il brandley Lo shottava Con un attacco speciale Allora Ci rimangono solo 7 minuti Ci rimangono solo 7 minuti Hardly Hardly Poi se ci si mettono anche caricamenti Che non finiscono mai più Diventa Ai 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 Impossibile Ai dai Carica 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 Veloce 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 Meno 45 Botta 45 sono tantissimi Vi direte Come fai a far 45 punti Cioè Sono già tanti Quelli Magari c'è quello che parte Con 50 punti massimo Io c'ho 111 punti massimo Però io Poi vi faccio Lo screenshot Ne avevo 999 più Perché Il conta Appunto i sortiti Si blocca 999 Ma lui conta ancora di più Cioè Continua Non si ferma 999 Sennò sarebbe un po' Una presa per i fondelli Ecco Quindi Andiamo qui Vai Sbagliato Sbagliato Ci fotte Ci fotte nel culo Ci fotte Ci fotte No 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 Via 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 Uh che culo Abbiamo rischiato Ragazzi Sto coso è a livello 47 Ora Guardate 120.000 Così Da quando è partito il video Che avevo 250.000 Quanto ce ne ho Già ora Andiamo un po' a vedere Ah avevo 2.500.000 Ora quanti ne ho Avrò un 3.000.000 Circa Secondo i calcoli Dai Ragazzi Solo 5 minuti Eh 3.000.000 Guardate a livello 50 Oro Quindi la truppa È molto più potenziata Le stelline Per fortuna Non le conta Ma se dovesse avere Le stelline Credo che non riuscire Proprio a batterle È davvero È davvero un Semplice trucco Interessante Scusate il video Che lagga Ma Non è che abbia Cazzo di telefono L'S7 L'S3 Merdoso È rimasto un po' indietro Con i telefoni Ma Non bisogna mai spendere Trovi soldi in telefoni Perché Ogni anno Nesce uno nuovo Quindi cazzo Cazzo tene Quando c'hai Un telefono molto buono Ecco Inizia ad essere anche forte Il boss in sé Devo dire che Inizia ad essere anche Una sfida Non solo per fare soldi Ma proprio una sfida Contro un nemico Abbastanza forte Dato che prima Con uno scudo Riuscivi a batterlo Con uno scudo Tipo con la pistola E lo scudino Di merda Che tanto di merda Non è Allora Il caricamento qua Si blocca sempre Una manciata di secondi E poi ci fa vedere Minchia quanta roba Non voglio più 45 Voglio qualcosa Che mi consumi 60 Almeno punti Così Li consumo più in fretta Ho solo 4 minuti Se non di meno Forse 3 Eh si Mi sa proprio 3 Stiamo Parlo di fretta Il livello in sé Ci si mette Una trentina di secondi È poco Per fortuna 30 secondi È poco Però Tra i caricamenti E tutto Aspetta Jo Tra i caricamenti E tutto Ci si mette davvero Una marea di tempo Forse l'unica pecca Del gioco Di caricamenti Devo dirlo Non è come NMSD Che comunque Il gioco era offline Quindi non caricava In base alla tua rete Caricava Così Non andava in fretta Qua invece Se c'hai la rete Un po' di merda Se c'hai la 7 mega Del cazzo Qua Genova Rapallo No Ti devi accontentare Allora Sì Allora Dai dai No Ancora 248 punti Quindi 5 possibilità Di livello Notare 5 possibilità Un minuto l'una Circa Ce la faremo Abbiamo solo 2 minuti Ragazzi Attenzione Dato ce la potrà fare Mi sa proprio di no Mi sa proprio di no Mi sa proprio di no Ma non perdiamoci l'animo Continuiamo Ragazzi Sono un minuto e mezzo Abbondante Siamo Vai 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 Lo scudo Lo scudo Veloce Si protegge Usa il potere speciale Si protegge Si protegge Usa 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 E va A Vincere Però Manca Ancora un minuto Circa Qua si fanno punti A non finire Ragazzi Sto usando il telefono Interrottamente Da un'ora Interrottamente Cioè vuol dire che Non mi fermo un attimo Dai 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 Ce la possiamo fare Meno 45 Ancora io voglio vedere se c'è qualcosa Dopo il meno 45 Se c'è un meno 50 O meno 60 Solo per curiosità Dai davvero Perché comunque qua non si tratta Di scioppare O di cosa Si tratta di Andare in fretta E di avere il telefono Che non lagra Allora Dai 45 85 Scudo 85 Usa il potere Scudo 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 Dai 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 E' finito E dato Cos'è rimasto Da inizio serata Da un'ora di gioco Intensivo Devo dirlo Si Però è un'ora di gioco Ogni 4 giorni Se vuoi fare così 3 milioni 400 mila MSP Ho usato circa 1000 1200 punti Sortita Ma ho guadagnato Una marea Di MSP Ragazzi Questo è l'unico trucco Non ci sono inganni Ragazzi Anzi Ora vi faccio vedere Non ci sono inganni E' tutto Merito di questo Tucchetto Scoperto da me Io almeno Ma lo so scoperto io Poi non so Se l'abbia già scoperto Qualcun altro Però Io lo scopero casualmente Infatti se guardate Era 999 Più Qua vabbè Era l'altro giorno E avevo 300 mila Comunque Ne avevo 9 mila Inizio serata Anche se ne avessi avuto 300 mila Ho fatto 3 milioni Quindi fate voi ragazzi Questo è l'unico trucco Che funziona Non come le altre cazzate Noi ci vediamo In un prossimo video Spero di esservi stato utile Ciao a tutti i ca' l'unico trucco Ciao a tutti i ca' l'unico trucco Grazie a tutti.